Buongiorno, mi chiamo Francesca Galli e il mio gruppo di tesi è composto da Chiara Magnani e Daphne Zenoni. Ci siamo laureate al Dipartimento di Architettura dell'Università di Bologna della sede di Cesena con una tesi di restauro del Castello di Coriano. Una tesi che ha avuto come relatore Andreu Golini e come correlatori Filippo Piva, Federico Fallavollita e Valentina Orioli. È stato un lavoro di tesi molto interessante perché ci ha permesso di affrontare diverse tematiche a partire non solo dal restauro ma anche dal paesaggio e l'urbanistica. In quanto il nostro obiettivo era principalmente quello di ridare vita al Castello di Coriano che era rimasto in qualche modo isolato all'interno del paese e quindi attraverso un'analisi multidisciplinare del suo contesto siamo riuscite comunque a dare una proposta di riutilizzo che possa ridare valore a questo oggetto architettonico.